dg photo art it's media it's art salve a tutti da magda mancuso e da questo meraviglioso scenario della casina pompeana all'interno della villa comunale di napoli in questo meraviglioso archivio della canzone classica napoletana tra poco reclameranno l'attenzione non solo dei napoletani ma anche di tanti turisti due grandi artisti della nostra bella musica napoletana sto parlando di anna merolla e ciro giorgio venite con me la canzone la batteria la cucina la cucina la cucina Come vi dicevo allora siamo qui per curiosare un po' nella vita di questa splendida artista Anna Merolla, buonasera, ciao Anna Buonasera a te Magda, buonasera a Davide e grazie per essere intervenuti questa sera Allora questo meraviglioso spettacolo non solo per i napoletani ma soprattutto per i turisti qui a Napoli Anna Merolla, attrice e cantante, in quali delle due vestiti senti più a tuo agio? Beh in tutte e due perché entrambe sono emozionanti quindi l'importante è emozionarsi per emozionare quindi in tutte e due Però ti abbiamo visto a teatro veramente in maniera brillante anche in alcune apparizioni cinematografiche Cosa vorrei fare più avanti dopo questa bellissima avventura qui alla Casina Pompeana? Beh continuare sempre a portare avanti con grande rispetto dell'arte la canzone classica napoletana Perché no anche la recitazione perché per me è importante sia l'una che l'altra Anna Merolla figlia d'arte ovviamente e quindi non poteva mancare la recitazione durante il tuo percorso artistico E una splendida voce soprattutto la continuità della canzone classica napoletana Come ti rivedi in questa veste così importante no? Perché sei stata appunto definita la continuità della canzone classica napoletana per la tua splendida voce Soprattutto per la famiglia da cui vieni perché hanno sempre fatto questo nella loro vita Eh sì è una bella responsabilità voglio dire perché uno per la famiglia che mi hanno dato i Natali E quindi tanti insegnamenti per poter portare avanti questa professione Con grande serietà, dedizione, amore, passione Perché veramente chi fa questo lavoro non lo fa perché deve guadagnarci Che ben vengano perché chi lavora deve essere compensato Però prima di tutto si fa per amore proprio dell'arte E poi essere oggi una rappresentante della canzone classica napoletana Tra le tante belle voci che ci sono a Napoli Beh è una grande responsabilità molto grossa E sono fiera ed orgogliosa di portarla avanti perché mi sento abbastanza forte Dunque Anna Merolla attrice, Anna Merolla cantante Ma anche moglie e madre di tre figli Come fai a conciliare il lavoro con la famiglia? Come ha fatto mamma e papà Praticamente stanno sempre con me E vivono a 360 gradi quello che è la mia attività lavorativa Cosa ci proponi stasera insieme a un altro grande artista che è Ciro Giorgio? Beh dei classici napoletani Non può mancare Raffaele Viviani E tante belle novità E penso che voi adesso restate qui con noi E potrete sicuramente adesso scoprire Non voglio svelare niente Lasciamo tutto a Davide Un saluto speciale a Davide e ai nostri amici Un bacio a tutti quanti voi, vi ringrazio E adesso mi sa che ti sta aspettando Ciro Giorgio Grazie Anna Merolla Eccoci qui Con l'altro artista della serata In questo meraviglioso scenario della Casina Pompeana Come potete vedere alle mie spalle Archivio sonoro della canzone napoletana Ed ovviamente non poteva mancare l'intervista al grande Ciro Giorgio Buonasera Buonasera, grazie di questa intervista Grazie, sei sempre stupenda tu Siamo qui perché sappiamo che per una volta al mese Ogni mese fino al mese di luglio Aglieterete non solo i napoletani ma anche i turisti Della vostra bella voce ma con le canzoni classiche napoletane Quello che hanno fatto la storia insomma della nostra bella Napoli Sì sì faremo un percorso storico iniziando da Viviani Da Maldacea, da Totò Tutto quello che è la nostra grande tradizione canora Ciro Giorgio, artista a 360 gradi Attore, macchiettista lo si può dire Ti ho visto a teatro comico, brillante In quale delle vesti, in quale di queste vesti ti senti più a tuo agio? Cantante, attore, macchiettista? Io ti devo dire la verità Io ho iniziato come attore drammatico Ho iniziato a fare delle parti veramente drammatiche Tra cui poi ho fatto una parte con il Notarato In Miseria e Nobiltà Tutti si ricorderanno Pappaniel, Vicenza e Pappanami Poi mano a mano crescendo Ho cercato di imparare diverse cose sempre nell'ambito teatrale Faccio qualche gioco di prestigio Canto, suono, ho studiato al conservatorio Musica, pianoforte Insomma faccio un po' di tutto E fortunatamente poi grazie a questo Io vivo di questo Da quando avevo appena nove anni forse Ho iniziato, sì, grossomodo Sono 55 anni di attività Pensa un po', insomma Eh, ci diamo da fare Adesso infatti ci abbiamo in programma Che a parte che domani facciamo un'altra serata Giù all'Arts Caffè Un locale ormai conosciuto a Napoli Dove si fanno quasi tutti i sabato Si fanno scene e spettacolo Con grossi artisti Che vengono di volta in volta È un club di artisti Poi subito dopo partiremo per il Festival di Sanremo Dove andremo a fare delle interviste Perché anch'io faccio radio Faccio una radio in America Una radio americana Che poi si ascolta su internet in tutto il mondo E quindi andremo lì a fare delle interviste E poi dopo parto per l'America Il 18, infatti il 18 di febbraio Io parto per una tournea americana Dove andrò a Phoenix in Arizona E poi andrò a New Orleans Per la prima volta non ci sono mai stato Io ho girato tutto l'America Ma New Orleans mi mancava E pensate un po', a New Orleans Facciamo la festa di San Gennaro Pensa un po' Quindi la tua arte non solo a Napoli In tutta Italia ma anche in tutto il mondo Perché hai girato veramente tantissimi luoghi Del nostro meraviglioso mondo Sì, sì, in effetti sono stato in Australia In Canada, l'America un po' tutta quanta L'ho girata Sono stato in Ungheria, in Finlandia, Estonia Ma non me le ricordo tutte quante Ma veramente ho girato quasi tutto il mondo Grazie all'arte napoletana Grande talento Studio perché hai detto che hai studiato Anche se è stato al conservatore Quindi un meraviglioso personaggio napoletano Veramente da archiviare Perché ce ne sono rimasti veramente pochi Volevo chiederti un'ultima cosa Hai lavorato sicuramente Hai anche collaborato con tanti artisti Ma con chi ti piacerebbe lavorare Che non hai avuto ancora l'opportunità? Beh, veramente il piacere è mio Che ho lavorato veramente con i grandi Ho lavorato con Totò Ho lavorato con Nino Taranto Con Nino Manfredi Il commissario Macri Gino Cervi Che bellissima persona che erano Questi grossi veramente Erano umili, grossi personaggi Ma di un cordiale Che ti devo dire? Mi sembravano persone veramente gentilissime Affabili, cordiali Oggi gli artisti sono un po' Con la puzza sotto il naso No, è bello il pubblico dare soddisfazione Stargli vicino L'autografo, la fotografia Ma perché no? Venite qua, vi faccio l'autografo Concludiamo Cosa farà Ciro Giorgio da grande? Da grande? Eh beh, ci stanno tanti progetti in mente da fare Ma vorrei realizzarli proprio qui Perché io sono costretto spesso ad andare fuori Per realizzare i miei progetti Ma vorrei realizzarli qui a Napoli Infatti stiamo insistendo con questa casa pompeiana Perché vogliamo lavorare qui a Napoli Perché la gente deve venire qui a Napoli A vedersi, a sentire il teatro e le canzoni napoletane Veniteci a trovare Perché veramente Napoli è la città più bella del mondo Ve lo dico io Grazie Ciro Giorgio Anna Merolla Venite con noi perché inizia la serata Alla casina pompeana Mi vado a preparare Ciao, ci vediamo Ciao, ci vediamo Si è appena concluso il concerto di Anna Merolla e Ciro Giorgio Qui alla casina pompeana Incontro Ugo Mamone Buonasera Buonasera Innanzitutto cosa ne pensa di questa iniziativa Qui alla casina pompeana di Napoli Un'iniziativa che effettivamente ci voleva Perché per difendere la direzione napoletana Sono specialmente le canzioni classiche napoletane Che per un po' di tempo sono state abbastanza abbandonate Quindi questa iniziativa mi fa molto piacere A me fa piacere anche al comitato di cui io faccio parte Sarebbe il comitato della Il comitato per la difesa delle sane tradizioni napoletane Penso che più sana di questa Questa è una tradizione veramente Assolutamente Assolutamente Poi c'è due grandi artisti Anna Merolla e Ciro Giorgio Quindi più di questo penso che non si può Quindi grazie Ugo Mamone E alla prossima Piacere Buona serata E al concerto di Anna Merolla e Ciro Giorgio Abbiamo incontrato anche Antonio Pappalardo Buonasera Buonasera In veste di compositore stasera qua Perché lei è un generale dei Carabinieri Però è anche un grande compositore E non potevo mancare perché a un concerto di canzoni napoletane Così emozionati, così suggestivo Trovandomi a Napoli dovevo partecipare a questo concerto Molto brava la signora che ha cantato E alla fine ho chiesto quello che dovevo chiedere necessariamente Ho surdato, innamorato che lei mi ha contato con molta emozione L'ho registrato e lo porterò in America Perché Trump e la sua amministrazione sappia con quale cuore I napoletani cantano le loro canzoni La canzone classica napoletana ha fatto conoscere Napoli Non solo in Italia ma in tutto il mondo Ci spieghi perché lei è proprio innamorato di questo brano Surdato innamorato Perché sono stato incaricato dall'amministrazione Trump Di comporre una sinfonia dedicata all'America E la sinfonia si chiama American Symphony E che cosa dovevo parlare di questo popolo prodigioso americano Se non del fatto che tante persone, di tanti popoli Si sono spostati nel 1700 in America Erano irlandesi, inglesi, spagnoli, italiani E nel momento in cui ho fatto la sinfonia ho preso il bello I profumi delle canzoni di questi popoli E del popolo italiano che cosa potevo prendere Se non la canzone napoletana E quella che mi ha colpito maggiormente è questo brano meraviglioso Ho surdato innamorato questo povero ragazzo Che si trova in trincea Che mentre gli cadono le bombe in testa Pensala alla sua ragazza Quante notte non te veca È una cosa molto bella, suggestiva ed emozionante Dunque dove ci sono le grandi tradizioni Ovviamente ci sono i grandi personaggi Grazie Antonio Papalardo e spero a presto veramente Grazie Viva il popolo napoletano come sempre